Ciao a tutti amici, in televisione sentiamo spesso parlare di eventi catastrofici e crisi senza precedenti e succede quindi che anche i più ottimisti nella vita tendono a diventare molto scettici e guardare il mondo con insicurezza. Ma non sempre queste brutte notizie hanno anche una brutta fine. Spesso si sentono anche storie di crisi con un lieto fine. Oggi parleremo per esempio della storia di una guardia scolastica che è diventata famosa nella sua città per l'attenzione e la dedizione che ha mostrato in servizio. Prima di diventare una guardia ha passato una vita difficile come agente di polizia dove aveva visto di tutto e di più. Nonostante abbia guadagnato il rispetto di tutti i suoi colleghi, Roger a volte era molto ansioso e triste perché vedere la crudeltà di alcune persone lo lasciò senza parole, ma grazie a ciò aveva imparato a reagire in tempo a situazioni difficili. Anni più avanti quindi decise di mollare il suo vecchio mestiere e cominciare a farne un altro, un po' più tranquillo, dove comunque ci fosse da dare il suo contributo ad una scuola della sua città, nei corridoi e nel cortile pieno di vita e di ragazzini. Molti amici e parenti erano rimasti molto sorpresi dalla sua decisione dicendo che semplicemente non ci sarebbe stato niente da fare e che si sarebbe rammolito presto, ma lui ha sempre risposto in modo onesto e sincero. In realtà non cerco l'azione ma cerco di aiutare i giovani a crescere in un ambiente sicuro, perché in futuro qualcuno di loro potrebbe proteggere i cittadini come ho già fatto io anni fa e questo ha la stessa importanza del catturare ladri e inseguire malviventi in auto. Per di più il suo lavoro non sarebbe stato così semplice come alcuni pensavano. I bambini e i ragazzini in generale a volte sanno essere molto cattivi e parte del lavoro di Roger consisteva proprio nel fermare le liti o episodi di bullismo, cose che spesso le guardie ignorano volentieri dichiarando di non essere in grado di educare i figli degli altri e quindi è meglio lasciar perdere. Dopo che Roger ha cominciato a lavorare nella scuola, gli episodi simili hanno smesso di esserci e tutto era diventato più sicuro. Piano piano Roger ha cominciato a fare amicizie con alcuni ragazzi, parlandoli ogni mattina e salutandoli. Moltissimi si fidavano di lui ciecamente e alcuni ne avevano paura perché non riuscivano più a fare ciò che volevano. Insomma sapeva ciò che faceva e sembravano non esserci imprevisti ma una cosa era successa durante un caldo aprile, in un anno che sembrava appunto tranquillo e senza intoppi. Durante l'ora di pranzo dei bambini e dei ragazzi ha notato una studentessa, non perché era interessato lei ma perché aveva capito che era il momento di agire, che qualcosa di strano stava succedendo. Era molto confuso dall'andatura di questa studentessa in particolar modo. All'inizio sembrava correre, poi sembrava fermarsi di scatto e cercare di prendere un respiro per poi riprendere l'andatura veloce, insomma un passo incerto. Nessuno aveva prestato attenzione alla studentessa quel giorno, anzi quasi nessuno visto che Roger era lì ad osservarla per capire. All'inizio non era sicuro stesse succedendo davvero qualcosa, ma nel giro di pochi secondi comprese. La studentessa di nome Sara quel giorno era andata in mensa a mangiare qualcosa, c'erano patatine fritte nel menù. All'improvviso però una le si era bloccata in gola e cominciò a mancarle il respiro. Dal panico aveva cominciato a camminare confusa con la vista quasi offuscata per la mancanza di ossigeno. Cercava di chiedere aiuto ma moltissimi pensavano semplicemente stesse scherzando ed era incredibile il fatto che nessuno avesse provato a parlarle in quel momento. Roger però ha eseguito la manovra di Heimlich per salvarla, liberandola prima che fosse tardi. Le telecamere di sicurezza della scuola l'avevano ripreso. Vedendo il tutto, in un primo momento però molti fecero fatica a comprendere perché le immagini erano equivocabili. In un'intervista Sara disse Era un momento critico, nemmeno io capivo cosa stava succedendo in realtà. Ero confusa e nessuno sembrava volermi aiutare ma grazie alla guardia mi sono salvata. Anche Roger ha lasciato delle dichiarazioni. Molti pensano che fare la guardia sia uno scherzo ma non lo è assolutamente. Situazioni simili potevano lasciare lacrime molte persone e bisogna avere sempre lo sguardo attivo. Alla fine le sue capacità da poliziotto sono state veramente utili. Nella scuola insegnano una volta al mese i metodi di primo soccorso facendo le esercitazioni ma pochi riescono davvero ad applicare tutto. Per questo motivo alcuni si sono ritrovati disorientati in quella situazione. Comunque sia dopo il fatto Roger era diventato famoso finendo sui giornali. Ovviamente i genitori erano molto grati all'uomo e lo hanno ringraziato di cuore invitandolo a casa a cena. Anche la scuola lo ha ringraziato offrendoli un piccolo premio. Insegnanti e specialmente studenti sono grati a Roger per il suo lavoro più di prima e lui tiene sempre gli occhi vigili pronto per ogni situazione. Come avete visto un piccolo sguardo nella direzione giusta è servito a qualcosa quindi ricordatevi spesso di fare attenzione alle piccole cose per riuscire a capire quando è il momento di agire. Chissà che un giorno non siate proprio voi a diventare i nuovi eroi di una storia incredibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.